È urgente che i governi di tutto il mondo si impegnino a sviluppare un quadro internazionale in grado di promuovere il mercato dell'investimento ad alto impatto sociale, per contrastare l'economia dell'esclusione e dello scarto. Lo ha ribadito Papa Francesco nelle discorse partecipanti ad un convegno del Montificio Consiglio Giustizia e Pace su una forma emergente di investimento responsabile, nota come Impact Investing. Si tratta, detto il Papa, di una modalità che vuole promuovere lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni povere. In quest'ottica, ha notato Papa Francesco, è importante che l'etica ritrovi il suo spazio nella finanza e che i mercati si pongano al servizio degli interessi dei popoli e del bene comune dell'umanità. Non possiamo tollerare più a lungo che i mercati finanziari governino le sorti dei popoli piuttosto che servirne i bisogni, o che pochi prosperino ricorrendo alla speculazione finanziaria mentre molti ne subiscono pesantemente le conseguenze.